ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario augests chi ha sui vax g a cosa serve augests chi ha sui vax g a un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino malattia di augests chi per il suino inattivato appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali inattivati è commercializzato in italia dall'azienda patro industria farmaceutica veterinaria spa augests chi ha sui vax g può essere prescritto con ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 informazioni commerciali sulla prescrizione titolare patro industria farmaceutica veterinaria spa concessionario patro industria farmaceutica veterinaria spa ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 principio attivo vaccino malattia di augests chi per il suino inattivato gruppo terapeutico vaccini forma farmaceutica flaconi iniettabili confezioni augests chi ha sui vax g su toc 1 flacone 100 ml 50 dosi principio attivo una dose 2 ml di vaccino contiene virus inattivato della malattia di augests chi titolo non inferiore a 10 59 dict 650 prima dell'inattivazione in grado di indurre nel coniglio un titolo siero neutralizzante media geometrica post vaccinazione sc non inferiore a 16 eccipienti una dose 2 ml di vaccino contiene adiovante gel di idrossido di alluminio 40 mg conservante sodio ed il mercurio teosalicilato 0,2 mg indicazioni ha indicato per la immunizzazione attiva del suino per prevenire la mortalità e ridurre i sintomi clinici della malattia di augests chi l'escrezione del virus selvaggio e gli effetti negativi dell'infezione sulle prestazioni produttive l'immunità si mantiene per almeno sei mesi posologia agitare energicamente prima dell'uso il vaccino va inoculato per via sottocutanea preferibilmente nella fossa retroauricolare alla dose di 2 ml per capo programma vaccinale scrofette 1 a intervento 46 settimane prima del parto 2 a intervento 24 settimane dopo il primo scrofi già vaccinate al primo parto vaccinazione di richiamo 24 settimane prima di ogni parto sui netti nati da scrofi vaccinate 1 a intervento a 8 9 settimane 2 a intervento 24 settimane dopo il primo sui netti nati da scrofi non vaccinate 1 a intervento a quattro settimane di età 2 a intervento 2 4 settimane dopo il primo verri vaccinazione di richiamo ogni sei mesi il presente programma vaccina le va adattato in conformità alle disposizioni nazionali vigenti in materia di controllo della malattia di augests chi nella specie suina avvertenze precauzioni speciali per l'impiego negli animali somministrare a soggetti in buone condizioni di salute rispettando le condizioni di asepsi in caso di manifestazioni di ipersensibilità allergica intervenire subito con anti istaminici tempi di sospensione 0 giorni fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato